Oggi parlo di educazione. Se ci riferiamo all'etimologia della parola siamo di fronte a un termine che significa tirar fuori, quindi il meglio, quindi la propria natura. Invece la nostra società sembra avere scambiato l'educazione con un trasmettere delle nozioni, per cui sarà sicuramente utile sapere che Garibaldi è nato a Nizza, ma di fronte al mistero della vita, di fronte alla bellezza della vita, penso che non è che ha tutta questa valenza, diciamo così. Per cui anche quando andavo a scuola io c'erano tanti insegnanti che dicevano dobbiamo finire il programma, ma non si preoccupavano di instillare dentro di noi la curiosità, la gioia della vita, cioè abbandonarsi al mistero della vita, la sete di sapere, di conoscere, ma sembrava essere più importante finire il programma, quindi imbottirci di nozioni piuttosto che sì acquisire delle nozioni, ma penetrare il mistero della vita o come direbbe Osho trascendere la vita, quindi andare oltre, sapere che c'è una forza benevola che ci aiuta e ci guida attraverso il mistero della vita. Quindi l'educazione non è un insieme di regole, sì le regole vanno rispettate, c'è il rispetto per le altre, ci sono delle regole sociali, questo è fuori discussione ovviamente, ma a mio parere l'educazione è appunto educare al mistero della vita, educare all'avventura, al coraggio, al buttarsi in una situazione senza preoccuparsi troppo delle conseguenze, ma acquisire delle conoscenze, acquisire le conoscenze ma attraverso l'esperienza. Chiaramente noi possiamo comprare un libro di come si nuota perfettamente, ma se non entriamo in acqua e non iniziamo a nuotare, non impariamo, rimarremo soltanto a livello teorico. Quindi è molto importante questa cosa, cioè più importante è l'esperienza che la nozione, questo dal mio punto di vista vuol dire educare, per cui il coraggio di trascendere la vita, di penetrare profondamente questo mistero e sapere che tutto è bellezza e non è solo quello ha sbagliato, quell'altro è così, quello non capisce, Garibaldi è nato a Nizza. Quindi questo è il messaggio che vi voglio trasmettere attraverso questo video e spero che vi sia raggiunto, vi sia aggiunto scusatemi. Un abbraccio e a presto.